Il comportamento del principe Harry è stato messo a nudo mentre soffia caldo e freddo con la stampa, ha affermato la giornalista Camilla Tomaini in un'intervista al podcast, Harry, 37 anni, e sua moglie Meghan, 40 anni, notoriamente si sono dimessi dai loro ruoli ufficiali nella famiglia reale. Il duca e la duchessa del Sussex ora vivono a Montecito, in California, con i loro figli, Archie e Lilibet. Negli ultimi mesi sono state sollevate domande sul fatto che i Sussex si riuniranno al duca e alla duchessa di Cambridge negli Stati Uniti nel 2022. Arriva dopo l'annuncio del principe William dell'anno scorso sui piani suoi e di Kate di viaggiare negli Stati Uniti, la conferma di un tour negli Stati Uniti ha fatto seguito alla notizia che l'Earthshot Prize ambientale, fondato dal duca, andrà in America. Punto. Il comportamento dei reali durante i tour è stato recentemente discusso da Camilla Tomaini, editore associato del Daily Telegraph, che in precedenza era l'editore reale del Sunday Express. Parlando il mese scorso al podcast Women with Balls, ospitato da Katie Balls di The Spectator, la veterana giornalista reale ha rivelato che Harry a volte si comportava in modo molto arrabbiato con la stampa e altre volte amichevole. Ha detto, ho lavorato con Harry dove si è arrabbiato con noi e ci ha ignorato. Il podcast è stato registrato lo stesso giorno in cui le Barbados sono diventate una repubblica e hanno rimosso la regina Elisabetta II come capo di stato, la notizia ha riportato alla mente un ricordo per la signora Tomaini di quando ha incontrato Harry durante una visita nella nazione caraibica. Ha detto, ricordo di essere stata alle Barbados con lui, Harry, ed ero in rotazione. Punto punto. Continuava a chiamarmi come, Camilla. Devi sentire questo. Non so di cosa stessero parlando, olio di palma o qualcosa del genere. Sono lì con il mio tacquino, pensando oh, è molto amichevole. Quindi, è un po' un ambiente caldo e freddo, ha aggiunto, a volte puoi essere sul retro dell'aereo e un reale scende per una chiacchierata.